voglio provare questa partita ilo più far dimmi al voler far allora allora perché non me lo ricordo a memoria allora silenziatore agency e esperto da cazzo è il far non lo trovo dobbiamo chiestare ma di merda dov'è il far raga è tra gli assalto secondo assalto dovrebbe essere ok vai silenziatore agency canna del 19 e mezzo ha rinforzato pesante sotto canna field agent calcio quale bro calcio il rider per l'ultimo sia l'ultimo e munizioni 50 veloci 50 veloci ultime sotto canna il filo più sì lui anche secondo me il problema è che è una di quelle espressioni che non ho mai espresso è una di quelle opinioni che non ho mai espresso far l'idea di più neanche a te c'è una di voi l'otta perché cazzo sia l'otta dove lo puoi o dici che non è bravo come c'è chi non lui distrugge il suo essere capito vuoi ne conoscete ragazzi che giocano a call of duty? eh io ne conosco due o tre no ragazzi che si giocano a call of duty io ne conosco una che è fortuna è fortuna davvero conosco una che è buona eh vabbè questo va meglio eh che fa versi con la bocca il microfono per stream eh da solo dove fai ma le action un po' come si chiama quella le? ok il team è entrato da sinistra no madonna mia vi ho fatto un po' incazzare ragazzi aiutate a terra a terra buttatissimo uno arrivo ma hanno preso degli schiaffi questi assurdi eh lo so mi è convinto che non hanno le cuffie forse ebbè è vero che avevano l'hub però beh il drop prendiamo il drop Milano per far ridere ebbè no forti forse ne ha sciolto il povero ferito ebbè no gira abominano con il porti eh soldi dammi i soldi ebbè ebbè vieni prendi guav piastre prendi piastre due spaccali un'altra 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 diametiltà trovo within pugna ha la poi sono tutti a 4 in una casa preso, i 2 sono scesi sono si ritiro da giù veramente per potenza scesi tutti a 3 da lì lì cado i soldi a quello accanto cado aspetta qua po' ora c'è il pio una tata è la taglia con la ferra erano con te hanno arrestato, vedrai dove sono? è la cosa però così non ci posso andate a prendere la foto prendiamo un elicottero ma questo giocava col tundra tundra è la cosa forte ok l'ha usato lui era tutto per l'abbiamo lasciatemi tutti i soldi allo shop taga che vengono vengono con l'elicottero lasciate tutti i soldi ma cosa devi capire ma non m'avete lasciato i soldi allo shop io c'ho da spenderli aspetta dammi i soldi datemi i soldi non c'è stato un ascento che c'è da un mondo capitan mangano va bene tiro io no ragazzi però la voce era so io no 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 qui stanno pure sparando Sto sparando su un uomo Buttateli buttateli che mi metto a vele Ovviamente il suo primo pensiero è finito a fermare ovviamente E' una parte Cosa è? Faccio un po' Oh, guarda avanti, guarda Da un altro lato completamente Un altro team Un altro team E andò a fare un altro team che non c'entrava niente C'è un altro due team che sono all'arraio Chi è che guidava l'elicottero? No I-io-io Che vabbè C'era infilazione di rir Del Gaudium C'è un cazzino di animi L'altro team ha perduto il giallo Now they return to base C'è due timbre Porco oddio man C'è una scettina C'è una scettina C'è una scettina Ah Uno s'entroppato rapporto No, non posso prendere la porta Ne ore e ne mani Tutti ieri, tutti ieri C'è una scettina C'è una mano Da me raga Da me Da me no Ovviamente Con Farray Da me Ma che va da solo? No, ma che da me Che so Mi ha sciolto E' risceso Sono due Mi la fissa Mi prendo da sotto Ale Guarda davanti E' qui, è qui, è qui Dove arrivi che ci mostra ancora No Non penso Sì, uno era in volo E' un po' No, 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 no Sinistra, 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 sinistra Mi resto, mi resto, capri e basta Capri e basta No, le pronte, non dà via Prendo con silenzio Ah, l'hai fatto te Ok, bravo Bravo Buonissimo Da lo shop Sono finiti Dovrebbero anzi Non si sa C'è 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 Non ci arrivo se vuoi Alla mia sinistra Hai rotto te i vetri? No No Una fantasma, non li vedo E' qua Ma chi era dietro di voi? Piazza Dove Ale? Eh, verso qua Partene 3GK Votute No, senza Eh, triplo rass Oh, parco dios Stai dietro, brother Stai dietro Stai bombardo di post Qua Triplo rass No, no, no Li devo fight up Li devo fight up io non vedo un terreno mi sono preso un ultimo di asso perchè questo sembra terra sono morto tanto era angostato andiamo a presciagallo e ci vediamo il drop è libero raga secondo voi lì si c'è questo qua che viene spinto ancora me lo guardi dall'alto me lo guardi dall'alto eh io non lo vedo io non lo vedo neanche se l'ha andato la vera ruotata a destra però c'è da silos al massimo si 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 prendetela è la è la è la mamma non è solo forse è toccato una cosa continua a pingarmelo se riesce hai giottato la tua saranno loro? è lì è lì Nonono. Sto gioco, non so se niente. Chi è che t'ha fatto? Da dove ti hanno fatto? Ah, c'ho un'altra team. Non c'è andare, è meglio! Mi sta prendendo il camion, non mi vada C'è un team di 3, sono sempre 3 vivi Ho una kill e venti morti Sono quelli, sono quelli Prendi il camion e andiamo via Vieni, vieni, vieni Vai, stai giusto Mi ti alzuto solo Vieni, vieni, vieni Compra un drop Ale, compra un drop No, resto io, resto io No, raga no Porco dio, fare la fossa come decancre Vieni, 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 vieni Eclipse, sono 6 Ragazzi, 6, 6 Sono 6 Fare la fossa come decancre Vieni, 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 vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Ingolet Fu un pezzo di giù, mi ascolta perchè Vieni, voce, voce, voce Senazzo, v-lag, nata, disegno Sta arrestando, sta arrestando ti ho f***o l'armi, vieni in questa casa dove sono io presido vai, tiran drop, tiran drop Ale io prendi nuove raga, chi ha preso il mio loot? chi ha preso le mie armi? qua, qua, te l'ho detto, qua te l'ho pingato oh, c'è un ping mi hai aiutato dov'è il mio loot? qualcuno può aiutarmi? dovete prendere lì trovo il mio loot è il mio ping lo vedo terra, terra uno questa non si muove più vai, c'è un altro vai, c'è un altro ancora questo hit non è dove è lo sniper? visto? due a terra è stato in uno armi prendi drop, back on the way non c'è un po' non c'è un po' watch, watch, watch 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 guardate io lo resto da io lo prendete, questo drop potrebbe andare vabbè però tu dormi non è soppato sto muore ahahahahahahaha tu dormi Cosa? 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 Mi sono saluto, mi sono saluto Cosa? Cosa è davanti a noi Non lo vibrago, non lo ripeto Non lo si sta a fare Zoniamo le, zoniamo le l'amax è fortissimo lì c'è gente eh li zoniamo però saliamo non vieni su vieni su vieni la quarta è veloce la quarta è veloce se siamo bravi li zoniamo stiamo vicini a due a due perché non abbiamo l'auto s da dove da dove mi piace questa posizione amico siamo scoperti da militare siamo in due vabbè dove erano questi nemici? al mio pingale sono restato hanno restato qua sotto zoniamoli sono il mio ping tutto il gente però era un ping molto approssimativo non era qua era qua prima perché andiamo un po' di safe per zonare ovviamente vabbè da qua 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 quà ora con te cado quanti sono? ne ho visto uno quante survivors un altro un altro No, 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 full team, full team Full team In posizione In posizione In posizione Stanno scendendo verso military Stanno scendendo verso military Ah, sì Sì, sì Spinga Spinga Che non è si scubato in maniera clamorosa S'è resta uno in fondo Credo Poi non è si scubate una kill in maniera imbarazzante Lascia fai a auto rest Mi da che sono a diverso Fai ad auto rest Poi c'ho uno B Un resto credo Andiamo a military se non mi fai io qualcuno se li faccia ale 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 dove stai andando ragionare ragionale a ragionare bisogna no 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 bisogna ruotare guarda che se ruotiamo di lì dobbiamo ruotare di qui è così ruotiamo arriviamo a puntieri non puoi non poter no raga ragionale dobbiamo da puntiari è già entrata un tema punti aria è già entrato un tema punti aria poca la torre mi raccomando che la torre non serve conto che è morto se ne sono andati se ne sono andati no sono entrati sono in open si ma non capisco se c'è un team o no per me ho gente sopra da me gente già pagata la maschera vi do sta dritto ragionale dentro che ti vedo al mio canale il mio canale io non lo so quando quanti avea se baggata la persona reale Non lo capisco Ma è qua dentro No, là Il fondo La prendi con la roccia Con la roccia è tocca Il resto qui Riposizione dopo la mia Lala Ma infatti questo Qual è? Qual è? Qual è? No, ma ho messo a terra lui A terra lui A terra lui A terra lui Aspettate, però mi devo scendere Dov'è? Dov'è? No, sta pushando Sono vivo Ale Sono vivo, prendimi Stendimi, prendimi Eclipse, prendimi Due lato a muro Due lato a muro Sto morando Sto morando Eclipse Ok, sono due qua Due qua sono Al mio ping Ok Ping Sono qui sotto E sono con l'Amax Non hanno molti Amax No, molti Aspetta Tutti lì Uno fatto Uno fatto Aspetta Aspetta Quanti a sborra Sì, sì Aspetta Deve uscire Non pushare T'acqua Eclipse Oros Oros Oh god Oh god Oh god Oh god Oh god We're giving away Oh god I'm giving away I'm giving away Oh god No Che cazzo c'è in grado? Entro il labirinto è successo l'impensabile Rex Ma perché Avexis fa sempre una kill in più di me? Nonostante